Sistema un po' la tua stanza. Ci vogliono due minuti, d'accordo, Alice? Nel Paese delle Meraviglie. Certo. Vedo che ti piace leggere. Vedo che ti piace leggere. Forse eravamo amiche prima del mio reset. Potremmo esserlo ancora. Tuo padre dice che hai scelto tu il mio nome. Cara, è bello. Come l'hai scelto? Parlami un po' di te. Cosa ti piace? Quali posti ami? I tuoi piatti preferiti? Mi aiuterebbe molto. Sei tranquilla. Non ti faccio paura. Non ti faccio paura. Non ti faccio paura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stai giocando. So che pensi. Pensi che tuo padre sia un delinquente? Un fallito del cazzo? Non trova un lavoro, non si occupa della famiglia? Non credi che ci abbia provato a far funzionare le cose? Ma nonostante tutto arriva sempre qualcuno che manda tutto a puttane! So cosa pensi di me. Mi odi. Mi odi, non è vero. Dillo! Dillo che mi odi! Dio, che sto facendo? Scusami, tesoro. Scusa. Mi dispiace. Ti voglio bene, lo sai, è vero. Sai che ti voglio bene. Dio, che ti voglio bene. Scusami. Chiara. Dio, che vieni. Scusami. Grazie a tutti